Com'è di prima mattina a venire sul pontile? Bello! Perché? Perché si sta al fresco del mare. E ti piace quando c'è il sole in questo modo? Sì! Perché? Perché riflette sul mare e il mare sembra quasi cristallino. Ancija la patina, edire, frappola consente per il mare. E dette si è ricordato. Non si può fare un'azote. Ora, presto! Perciampti! Ora, scutti! Perciampti! È molto importante, perché è stato un po' amici.